E ragazzi, porca mano che il tablet sta giocando a Indra, sono fissata con la paura che il tablet non riprenda tutto, quindi puntualmente parto sempre col sistemare la telecamera all'inizio video, all'inizio episodio, quando in realtà è già posto. Comunque, l'ultima volta, questo va a essere il secondo episodio che state vedendo dalla giornata, nello scorso episodio abbiamo dato un'occhiata qui alla forgia, cosa ci potevano offrire per potenziarci a me a inizio giochi, ho visto che possiamo forgiarci una rama di fergo che ha un attacco leggermente migliore rispetto a farcione camua che c'è adesso, se troviamo altri due minerali fergosi durante la prossima missione. Per parlare di missione abbiamo completato una missione chiave che consisteva nell'ammazzare 8 Jagas e adesso ci sono rimaste due missioni chiave disponibili ed entrambe consistono nel raccogliere cose, quindi una consiste nel consegnare 8 l'antraia di fuoco e l'altra consegnare 8 funghi speciali. Ora, questi sono tutti e due oggetti speciali che puoi trovare, i funghi ovviamente nella zona funghi e nell'antraia di fuoco non so dove, quindi senza saperla dire scrivere, io di E di fare la classica caccia ai funghi. Frustazioni fungose, vediamo, ristorante di funghi alla cliente, sogno di aprire un ristorante tutto mio, ma ho passato così tanto tempo a sperimentare con il menu che ho usato gli ingredienti, non potrò mai aprire se non me ne procuro altri, puoi aiutarmi tu? Va bene, andiamo a caccia dei funghi! Ok, se si edite vi diceva, ok, partiamo in punti, qui lo vediamo ovviamente ragazzi per la dimensione, sempre mangiare dei dango, ordiniamo questo set che abbiamo già sistemato nello scorso episodio e stavolta la canzone l'assalto, perché? Perché non vorrei che, se ho rischiato prima il copyright, non vorrei rischiare ancora una volta adesso, quindi Lasciamo perdere Al massimo mi mutano i video in quella parte, spero Ok, questo sarà facile, spero personaggio Allora, ah, già vediamo che sulla mappa in posta sinistra ci indicano i punti di accolta dove possiamo accogliere i funghi speciali, ok, perfetto, già mi stavo preoccupando Perché avevo avuto i primi flashback di quando in un episodio dimostrante World Iceborne Avevo provato, avevo provato a fare una missione a corto oggetti e non avevo trovato niente e avevo rinunciato, ok? Queste possono, queste missioni consegna, ho aggiunto io missioni consegna, possono essere completate consegnando gli oggetti richiesti Gli oggetti punti sono consegnati automaticamente e non appena verranno accolti Gli oggetti trasportabili devono essere portati a casa scorta perché non possono essere messi nella vostra oggetti Gli oggetti trasportabili sono tipo le uova, ecco, infatti, siete vicini a casa scuola che trasporta oggetti potrai depositarli Premendo agli oggetti depositati a casa non possono essere recuperati Ti danno punti, i punti verdi indicano dove sono i materiali consegnabili, ok Io direi di mettere, ecco, vediamo le robe sempre Ora passiamo da questa parte perché ragazzi vi insegno qui da questa parte Qui c'è un max insetto filo che se lo tocchiamo, interagiamo, ci porta dove sta indicando, dove nella direzione che sta indicando le luciole Ecco, le luciole, la direzione in cui stanno andando le luciole vi fa capire dove i max insetto vi portano Se interagite con loro, ragazzi, questa è la scorciatoia Guardate, sono fuori dalla mappa I trucchi In realtà trucchi Oh, punti, punti Ripristano un po' di esistenza per essere conservato Io ho visto che mi hanno dato punti e monetine Però ok Questa è la Viggo Vespa In questo gioco è un normale animaletto della forma endemica L'uera per carità anche i mostri d'arte world Però lì ci guardavano anche per curarci Ok, vai, insetto filo Prezzo giro, guardate, posizione qui un max insetto filo Allora, ragazzi, proviamo a vedere di mettere in pratica quello che ci avevamo detto nello scorso episodio Piazziamo un max insetto filo che ci serve per andare su Oh, e qui c'è un antidobra Antidobra Sapete che spunto un antidobra che cure e previene i veleni C'è il contrario dei normali cobri, insomma Invece che il veleno ha il cura Ok, vediamo un po' qui se... Qui c'è dell'elba soporifera Pianta con pervertà soporifera usata per realizzare tranquillanti Stavo cercando, ragazzi, qui nella mappa se... Se ero tornato un secondo giù perché non capisco Nooo No Corri, corri, corri No, 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 no Porca vacca, ragazzi, davo... Niente Che palle qua di personaggio non si attacca alla parete vabbè guscio di becca noi accogliamo tutto quello che vediamo perché si noce da guscio durissimo usata per creare proietti di frammentare riusciremo qui a trovare allora ragazzi i funghi dovrebbero stare quassù perché vedo nella mappa che stanno qui sopra in teoria con ZR zoom si ragazzi stanno quassù stanno nelle zone alte come le chiamo io della mappa queste sono queste qui scuole vai 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 perfetto tutte le volte spero sempre di eccoci qua allora funghi speciali a volte se sei fortunato ne trovi due in una volta hai un certo punto di sacco segnato automaticamente ok ragazzi per averciolito maestro ok fungo scelto non abbiamo trovato niente ragazzi solo funghi scelti quello là è un fungo olè ho trovato un altro prezio giglio dai vediamo un po' se ci porta questo max insetto ah che bello vediamo se ci porta dove dobbiamo andare forse ci ha portato troppo su comunque questo ragazzi è un insetto filo salvatico dopo un po' il tempo svanisce però per il momento abbiamo tre max insetti tre insetti disponibili ah vedo anche da un'occhiata qui a deposito minerario perché ci serve il minerale ferroso per fare la lava di ferro quella che voglio quella che voglio fare qui c'è attenzione un burro a tiragno hanno che creare in realtà appiccicose ottimi per la cavalcatura a wiggle è questo è uno spoiler cazzo vabbè sappiate ragazzi che qui non si possono qui ragazzi i mostri non li percavalcare normalmente come facevamo in monster hunter world praticamente li percavalcare solo quando un altro mostro grande li attacca poi dopo per fare cose molto fighe però non ve le spoiler le vedremo quando sarà il momento allora qui vedo che là si può lì c'è tipo una struttura antica e strutture antiche mi interessano quindi di qua già che ci siamo uno scavafuoco se lanciate il berserio può prendere fuoco ok ecco il deposito funghi colone dei funghi oh altri ci restano ancora 5 funghi speciali ragazzi insetto lampo cavoli c'è la vera di affianco se lanciate lanciate sui mostri per accecarli se la forna davica ragazzi sono un sacco di roba allora vediamo un po' dove possono essere i prossimi funghi sono sempre qui su questa zona alta ok madonna ok 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 vai ok madonna ragazzi che acrobata che sono devo capire dove andare aspettate un attimo allora posso cosa fai Francesco ti distrasciti voi ok perfetto devo capire ragazzi dove ok pensavo di essere sul stesso piano dei funghi ma quanto fai intanto vedete che il terzo max il terzo insetto filo è sparito perché dopo un po' ho detto questi se ne vanno ma sono non sono ancora ragazzi sono lo stesso piano dei funghi ma che cacchio vediamo si vabbè personaggio ma vai dritto cioè io voglio andare dritto va a sinistra vai su dritto cioè io punto la levetta in alto ok poi comunque per correre sulle pareti deve tenere per mutare di continuo oh ragazzi guardate lì quanti uccelli quanti spighi uccelli scusatemi ecco fatto oh ragazzi voglio farvi vedere una cosa in giro per le mappe ci sono delle cose segrete si lo so che oddio ah ragazzi l'ultima la barra questa qui in basso per muoversi vedete che con L aprosi il menu in cui piace le cose con L però tenendo per mutare posso anche spostarmi in questo secondo menu qua che è quello normale praticamente questo è il menu normale ragazzi voglio farvi vedere una cosa in giro per i biomi ci sono 10 di queste cose misteriose quando sei in missione potresti trovare delle note reliquie che contengono una serie di antichi messaggi queste note narrano la storia della regione e possono essere visualizzate su tutto a cui non è noto di caccia anche cagliere in mercato sempre interessato a questi messaggi se ne trovavano per parlare con lui nota furia 1 è stata aggiunta a taccuino la nota furia 1 ragazzi stavo pensando di leggere queste cose solo quando le avevo trovate almeno quando almeno quando io avevo trovato ragazzi stavo pensando di dedicare un episodio interamente dedicato a questi messaggi misteriosi in cui noi andiamo a prendere ovviamente i vari messaggi misteriosi le varie reliquie in giro per le mappe solamente che io da solo non riuscivo mai a trovare per queste infatti ci serviremo dei famosi video guida che ho già utilizzato per conto mio per trovare queste reliquie la prima volta ora ragazzi manca ancora trovare un fungo se la possiamo fare sapete che comunque di quelle reliquie ce ne sono sempre 10 per ogni bioma e poi della furia ce ne sono sempre 10 le 10 sono un capitolo di reliquie a parte diciamola così suddividendone in capitoli adesso vi faccio vedere il tacuino come è sistemato notte di caccia tacuino vedete ci sono rovine sacre poi ci sono gli altri 4 biomi che non abbiamo ancora visto e poi ci sono i capitoli della furia vediamo un po' cosa dice viviamo in un villaggio tranquillo dove il vento scacciava il male e le fiammelle ci illuminavano il cammino quindi questa è la prima voce del capitolo della sezione furia delle reliquie ora vediamo che qui sono apparse normalmente i funchi la dovevamo prima ragazzi sembra o non sembra questa è la statua di un cane aiuto sembrava sembra o sembra ragazzi il muso di un cane in questo guardate la roccia beh colgo il personaggio porca no porca sono arrivati i bordi della mappa sono arrivati i bordi della mappa ops ok ecco prima eravamo qua oh adesso trovo un fungo speciale oh madonna ragazzi non pensavo fosse così faticoso trovare dei funghi ok non ho trovato i minerali fregosi che volevo però almeno abbiamo trovato i funghi dopo la missione possiamo anche a un certo punto annullarla per 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 magari andare per magari prendere solo minerali oh scommettiamo che sono quelli che ci danno le ricompense il minerale ferroso si vai ce li andate nelle ricompense poi c'è coscieli saccolampo cristallotega minerali fregosi grande ragazzi ho andato nelle ricompense i minerali che mi servivano perché sono di rarità 4 e quindi nelle missioni di basso grado è difficile trovarli perché la rarità 4 corrisponde alla rarità massima poi quelle cose di alto grado invece fatto dalla rarità 5 in su ah già dai io mogi la chef della casa da te ti stava cercando sembrava triste per qualcosa ti dispiacerebbe andare a vedere come sta ok parliamo con io mogi la chef oh a proposito abbiamo finito le missioni chiave vi ricordo quindi in teoria dopo aver parlato con io mogi si sbloccherà la missione urgente penso tanto qui c'è anche il mercante che visto che il matronato è liquida è interessato un manufatto antico posso dargli un'occhiata interessante davvero interessante questo è un antico messaggio un lasciato di oscure ere passate sembra raccontare la storia ancora ignota di qualcuno il che lo rende un oggetto dal valore inestimabile probabilmente influenzato dal mio mestiere ho trascorso anni a cercare anali simili per avere una maggiore comprensione del mondo se dovessi trovare altre noti simili fosse tanto contese da mostrare di ammere sarei dire tutti i fuori truppi con dono come ringraziamento oserei dire che gli antichi messaggi sono suddivisi in note più piccole nascosti in oggette e morte non antropizzati ti auguro buona fortuna con la tua ricerca grazie in anticipo infatti dopo alcuni dopo tot messaggi che trovate in giro per i biomi cagero avrà di nuovo la scritta gialla sulla testa perché analizzerà tipo i messaggi di si interessa ma allora se su questo eccetera interpretate il messaggio un po' modo suo interpretate i messaggi capirà questo e quell'altro ovviamente non ci dirà niente però ci darà una ricompensa per aver accolto totti talismani io ragazzi totti reliquie scusate io stavo pensando ragazzi di accogliere le reliquie in un episodio a parte cioè dopo aver magari completato le missioni villaggio quando in teoria avremmo visto già tutti i biomi potremo prima di iniziare le missioni della base di caccia potremo andare a fare delle spedizioni in giro per i biomi e così trovare tutte le eliquie di tutti i biomi di altri ambiti alla guida di videoguidi ovviamente che trovi su youtube allora andiamo su armi e vediamo subito di aspettate devo fare faccio un insetto ok lo fa foggio foggia costa 300 vai si e qui faccia subito si si ok ragazzi in teoria dovrebbe essere oh però vedo che ha una cutezza di merda ah ma però effettivamente anche la cutezza del falcione camora non è anche sa cosa cioè la cutezza è la stessa solo che ok ok è solamente che poi quando giochi la la spada è in alto a sinistra è piena completamente quindi stavo dicendo ma ha così poca cutezza effettivamente ma in realtà è abbassa anche quella del falcione camora parlo dei colori parlo di quanti colori riempiono la la barra della spada solo che questa figura è diversa rispetto a quella che vedi durante i combattimenti comunque la peggiore notizia di sempre oddio che è successo io oggi hai sentito gianna hai saputo la terribile notizia no sono appena trovata al villaggio dopo una raccolta funghi cosa devo sapere sentite dell'emergenza ai oh mi sono moscicata la lingua ai nel mentre che è agitata ah giusto dicevo un grande giuse sta distruggendo una rovina sacra è un vero disastro ok ho esagerato un pochino ma c'è davvero un grande giuse che sta bloccando la tratta cominciare con il suo sederone ti prego fai qualcosa sono tenere liberi non potranno consigliarmi ingredienti per i dango dio dio una catastrofe per favore grazie davvero ti voglio bene ok ok dai la caccia a gianna giuse ma mi sono oggetti che puoi accettare dai no forse avrei dovuto dare la voce diversa però Mario ho deciso ho messo partita con sta voce quindi continuano con questa che disastro è giustamente anche i no dice che disastro perché lei è il ghiotto di dango vuoi che cioè se un mostro inizia bloccare la gente che porta ingredienti per i dango è veramente una tragedia oh giada è appena arrivata la missione urgente le missioni urgenti vanno completate più presto le cose potrebbero mettersi molto male tipo ora siamo nei guai io ho già questo qui per dirmi che un grande zoo si sta bloccando la tratta commerciale vicino alle rovine sacre non parliamo dell'antica tratta commerciale ma di quello usato per portare ingredienti di dango coniglietto oh no potremmo rimanere senza dango coniglietto mi sento male devi sconfiggere quel mostro ma fa attenzione i grandi zooci di solito hanno un gruppo di mini zooci a seguito e potresti vedertela brutta se avrò letto che solitamente i grandi zooci si portano dietro due zooci che solitamente sono i migliori combattiti del branco una roba da genere ok ora vai e salve i nostri preziosi dango va bene ecco qua missione urgente vai grandi zooci e gran dolore ok ecco questa ricorda di caniglietto già la vedete è fighissima uno stupido caniglietto si sta andando di matto nei rovini sacre il mio fruttore è pericolo preoccupate dei caniglietto così per consigliarmi gli ingredienti ricevuto gli omoji vai ma poi facciamo ancora di dango qui per rifornirmi prima di andare a battere quel ennesimo veloci app spero che l'avresti detto però ha detto il solito no io mi immagino che il personaggio dici il solito per favore vai pronti francesco edì è il momento della nostra prima battaglia seria ah cioè hai filmato l'introduzione dei mostri è vero me ne ho dimenticata è tipo quello delle rovine sacre che mi ha visto Trinità del tergore, minchia che nome per il primo boss del gioco, possiamo chiamarlo così Ok, è momento di affrontare quindi Garizuchi Usiamo qui subito l'azione scorta per Ek Allora, Garizuchi ragazzi ve lo dico già, quell'icona che vedete sulla mappa Quel punto di domanda, dovrebbe essere lui il nostro obiettivo Quella lì è l'icona che c'è per tutti i mostri quando non li avete ancora visti In compenso Gufo ci ha gufato che sta lì Dai, questo episodio lo concludiamo con la cazza di Garizuchi In questo gioco le cacce più o meno dovranno massimo 30 minuti Se proprio sono iperimpegnative Perché già sono abbastanza schillate, tra virgolette Perché l'ho già finito questo gioco una volta quindi Non dovremmo avere più problemi Comunque, ragazzi, le musiche di combattimento Le musiche di combattimento, quelle serie però, state pronti Che quella del combattimento greggiaca sarà niente a confronto Eccolo qui, i graneggiuzzi con i suoi due migliori uomini del branco, chiamiamoli così Se pur di un mostro avvicinare il posterasso di lui No, non lo aggancio il bersaglio Boh, proviamo Eh, vabbè, non funziona Eh, vabbè Ah, così ho buttato il mirino Vabbè, non è cambiato niente Però mi serve la 1, ragazzi Ok, l'uno è sulla coda, ricordo No, non è sulla coda Ah, no, è sul pungiglione proprio della coda È pungiglione Lo chiamo pungiglione ma sarebbe false Ah Oh no, è zero Ecco, questo qui, ragazzi, è il recupero Come lo chiamavo io Praticamente si fa premendo Oddio L'ho buttato a terra Cos'è? Un residuo Vello Pelli che crescono sul collo del testo dei Rizuji Con toni dal bianco e arancio Naturalmente, ragazzi I Rizuji si può far fuori la coda Perché Perché sì Quale personaggio, ragazzi, dice This one's gonna get hard Quindi questo farà male Vuol dire che il mostro sta per fare un attacco potente Quello che ti può mandare K.O. per l'appunto Ecco Questo perché quest'attacco qui non può mandare K.O. Comunque Da grani giusto si può far fuori la coda e il muso Oddio Veloci tattacco dei mostri furiosi aumentano Intanto io ho rotto la testa Aiuto Si è incazzato, quindi Ragazzi Una cosa bella di mostri laterali Se sapete qual è E' che in alto a destra vedete L'icona del mostro grande E quando sta per morire Appare un'iconetta blu Che tipo Ha presentato il muso di un mostro Con la croce a posto degli occhi Stando a dedicare Perché il mostro sta morendo Poi c'è un'altra icona Che è delle cavalcature Che ha un altro aspetto Ecco Un personaggio dice anche Be careful Quando sta per tirare Un attacco potente Oh Ma porca va Tu vuoi farmi del male Oh aiuto Effettivamente stava per menarmi Allora stavo dicendo comunque Prima che il recupero Come lo chiamo io Ricordo che si fa con ZL Premendo B Però si fa schizivamente Quando ti manda all'aria il nemico Le armi sfussate Sono rispitte subito Affilare con una corte Allora adesso faccio una roba intelligente Mi affiro l'arma però Ingroppa Francesco Così nel frattempo Continua a muovermi Ok Tutto lì Attenilo Ah volevo salire Eh volevo salire A quanto pare Non si è scappato Seguiamolo Ah si Stava scappando Ok Va bene Allora io lo seguo Eh lui vuole scappare Peccato che io sia già in groppa A Francesco Quindi Gli sto a passo Olè Eh ho rotto un'altra parte Cos'ho rotto stavolta La coda la rotta Domanda Ah pensi che prima avevo rotto la coda E poi ho rotto la testa Guardi sta fermo Che ti devo Devo prendere l'uno Eh Eh vabbè Chiamami Ah che male Non l'ha fatto troppo Per fortuna Ok Che altro non so se voi state sentendo la tv Sentite sì Eh vabbè Questo ragazzi Questo spunto dovrebbe diminuire la difesa Ok Ok Beh aga È più boss È sempre più facile Del gioco Eh vabbè Lo sto devastando Aga Io compisco qua la coda Perché sì Mi sto sulle scatole Vai Forse con il falcione che muoio Abbiamo fatto meno danni Anche quando fa così Sta chiamando amici Ollè Ah sta scappando No non sto scappando Comunque capisci che un mostro è furioso Quando vedete gli sbuffi Dal muso Per indicare che sta Che è incazzato Ma Ragazzi il simbolo che avevo detto prima Il simbolo blu Con le x al posto degli occhi Sta morendo Ragazzi sta morendo Pelle di giuste di giuste anziani Inteso L'inteso color arancione Se dice un capobranco Ragazzi siamo bravi Evitiamo anche di farlo scappare Porca troia Eh si voleva fare l'attacco fiero Come non mi ha preso Sì la resistenza Sì non mi interessa Lo so che devo selezionare La con la baga La razione Perché mi ha diminuita la resistenza Ma cavoli sta morendo Li giuste cosa mi serve Adesso diminuire Aiuto Ok mi è diminuita L'affinità dell'arma Ragazzi Francesco vieni qua È bello combattere a fianco Di Di due compagni di caccia Perché così Li giuste Guarda Può puntare più persone Capisce Perché dopo un po' di tempo Il mostro Punta qualcun altro Se sei da solo Completamente Punta sempre te Non ti lascia mai tregua Se invece Combatti con qualcuno Anche in questo caso Anche solo Del tuo ferro O del tuo canine Guarda lui Per un po' Vai così Abbiamo cacciato I garizucci Perfetto Non è stata difficile Vediamo un po' I materiali Che ci da E poi speriamo Che ci sblocchi Onore voci Nell'armatura Dopo questa Vello Vello E beh ancora però Vediamo cos'hai Cosa ti Ci rimane ancora ragazzi Una parte della mappa Da vedere Quell'altra Intanto Stavo guardando Bene Ora che scade il tempo Ti a virgolette Vado A sistemare Una cosa Un altro lavoro ben fatto Come al solito Traduco Perché mi piace tradurre Vediamo le ricompresse Di questa bella caccia È stata una bella caccia Un bel primo scontro Boss Perché io li chiamo Scontri Boss Quelli dei misurgenti Pelli di Giuci Pelli di Giuci Di Anziano L'avevamo già letto Vello Pelli che crescono sul collo Le teste degli Giuci Con toni Dal bianco all'arancio Sacca rullante Organi Di un mostro Si è vergotto E metto Il suo straziante Doveva essere Quello degli Giuci Che abbiamo ucciso Fungo paralizzante Va bene Erba Fungo paralizzante Fungo blu Coda di Giuci Coda con una lama A mezza luna Basta un tocco Per abbattere la preda Ricompense parti I mostri assegnati Ah sono Quelli lì Proprio sono divisi Gli oggetti Compense Tra quelli che ottieni Piacchierotto Parti di mostro Quelli della missione Eccetera eccetera Poi gli altri Oggetti raccolti Da Fungo nito E quarta Bacca spillo Cavoli Lì Cos'hai raccolto Durante la caccia Va bene Va bene Va bene Vero impregato esattamente 6 minuti 45 secondi E 14 decimi Vabbè Poi Francesco E li sono saliti A livello 4 Mi fa piacere I compagni Kenner Sono Kenner Che hanno ricevuto Adestimento speciale A Kamura Per diventare Federico Pagni di caccia Potete avvalcare Ed eseguire Con loro attacchi Coordinati Sono degli alleati Di cui non potete fare A meno Infatti Già Non ne faccio A meno Di Francesco Non ho mai visto Il suo Della caccia Organizzosi I zucci Con così tanto Entusiasmo Sapevo che avevi Del talento Ma ti stai Proprio Dando un grande Affare Forse Dico Forse Guarda Mi sto divagando Come un vecchio Sentimentale Fai finta Non avrei sentito Niente Comunque Visto che Quella misura Urgente È stato Un successone In ora Delle misure Due stelle Per te Vai a vedere Visto Quale Lavoro Detto Quando Complete La misura Urgente Ti si sblocca La difficoltà Maggiore Ho qui Cerca Di dire qualcosa Splendide Notizie Giada Ho fatto Una scorta Di oggetti Speciali Appositamente Pensati Per le due Imprese Ti garantisco Che Ognuno Dieci Ti sarà Utile Ti consiglio Di prendere In considerazione Poi Sto ragazzi Diamo un'occhiata Alle merci Che ha Da offrire Il Signor Caglio Qua Sto a leggere Qui La lotteria Questa Roba Primo Premio Mega Pozione Vabbè Questa Roba La lotteria Paghi In denaro Ha Praticamente Con la lotteria Vedi se Riesci A vincere Pagando La recompensa Che c'è Lì Come Primo Premio Oppure Personaggi Per vedere Se dico Qualcosa Di diverso Proviamo A tentare La fortuna Quella La lotteria Dai Cosa Ho ottenuto E là Una gran Pozione Della pozione Del miele Ok Vabbè Carida Questa Cosa Vediamo Un po' Nuomamente Che cosa Tra l'altro Ci sono Gli sconti La Faccetta Rossa Sta Ad indicare Che ci sono Gli sconti In corso Infatti C'è anche Il Feda Lì a fianco Che Suona Il tamburello Per dire Che Per attirare L'attenzione Della gente Perché ci sono Gli sconti Allora Vediamo Un po' Si Ho un po' Di roba Bomba Botte Grande Potrebbe Interessarmi Ragazzi Potete Bomba Azionata Da importo Fisico Esterno Io voglio Tipo Menare La gente Quando Io Tipo Quando Capite Anche Un mostro Fare A dare Do mie Come Al solito Come Mostrate In ruolo Dove Fare Strollere La roba In faccia Quindi Posso Prendere Il massimo Ma a dire Che possono Bastare Per il momento Quando Iniziamo Ad avere Una maglia Di zenni Che Non ho Qua Speso Vedremo Di Vedere Un po' Di fare Qualcos'altro Un altro Vola Con un max Insetto Filo Ci dà Altri max Insetto Per caso Oh Sei tu Ho sentito Che Stai cavando La canta Utilamente Beh D'altro Ho fatto Tamento Che io Per Uitarti Nelle Tropeze Di caccia Ecco Altri Altri max Insetto Filo Qui c'è Un C'è Il maestro Canine Che ci Chiede Un favore Ehi già Posso chiederti Un favore Per appunto Sto lavorando Di equipaggiamenti Per compagni Canine Dovrebbero Esserti Molto utili Nella cazza Sono riuscito A cooperare Un oggetto In cui vado Molto fiero Ma vorrei Che qualcuno Lo testasse E' un po' Compresso Perciò Dovevo Affidarlo A qualcuno Che sape Davvero Come Cicco Beh Non dovrebbe Essere Troppo difficile Per gamera L'amacura Per gamera Diversione Ok Con 4 Deve dirci qualcosa Bene Ok Allora Prima di parlare Con Inoa Siamo già 32 minuti Laga Quanto vuole Il tempo Vediamo Le armature Voglio vedere L'armadò Finalmente Armature Nuove La maglia Cuoio Che Ha la stessa Difesa Di prima No Aspetta Cuoio Cuoio Sì Vediamo Quella Oaga La maglia L'armatura In maglia E l'armatura Cacciatore Danno Una rarità Comunque Una difesa Più decente Questa Loteria Minerali Ferrosi Questa Loteria Di brunisce La nostra Resistenza Fuoco E compenso Aumento La difesa Truono Beh Potrebbe Eserci Molto Utile Però Diamo Un'occhiata A quello Che deve Aspetire Dei minerali Ferrosi Possiamo Anche Migliorare L'armatura Che Però Adesso E Provo Di vedere Cosa Servirà Per la lama Di ferro Due Non serve Minerali Ferrosi Stavo Pensando A quello E io direi Che possiamo Possiamo Permetterci Di Riforgiare Un nuovo Elemento Dell'armatura Credete Io direi Allora Spendere Un po' Di minerali Ferrosi Dai Dai Riproviamo Subito Fatemi Controllare Cosa servirà Per il prossimo Due Cristalliteria Allora Magari Faccio il tempo A farmi Dai Prendiamo Anche Questo Perfetto Adesso C'ho Metà Armatura Di Kamui Metà Armatura A maglia Ok Qui c'è Anche L'armatura Dede Zuchi Tuttavia Vediamo Che Questo Sì Che sarebbe Stato Bello Peccato Che costa Pochino Ecco Ragazzi Mi sono Già Prendita Avevo Speso I soldi Qua Facciamo Una Cosa Allora Possiamo Vendere L'equipaggiamento Quindi facciamo Che Rimeggio Subito Il danno Che ho Fatto Io Fado Un Guardo Dai Eh Sì Non è Possibile Vendere L'equipaggiamento In uso E allora Cambiamo L'equipaggiamento Che ho Addosso Mettiamo Quello Di Kabura Ok Se io Voglio Vendere 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 L'equipaggiamento Ah Con X Ok Con X Con X Con Premendo A Sposto Le cose Ok Ora Andiamo A forgiare L'armatura Nuova Di Zuchi Che abbiamo Visto Posso Fare Anche Qua Posso Fare Più Cose Vediamo Un po Allora Per Le braccia Vela Con Raga Forse Riesco A fare Già Più Parti Adesso Vediamo Se Riesco Pelle Pelle Dovremmo Riuscire A fare Queste Tre Parti Vai Ripaggio Subito Poi Non Più Soldi Vediamo L'Ora Di Vendere Niente Ragazzi Ho Fatto L'Arma Due Già Per Niente Vabbè Questo Die Che La Cambiamo Perché Voglio Vendere Quindi Queste Camura Vediamo L'Equipaggiamento Ok Spostiamo Ok Adesso Vediamo Ah Non arrivo Ancora A Niente Non arrivo A vendere Non arrivo A 160 Non arrivo A 200 Zenni Va bene Aspettiamo Una missione Per Poggiare D'altri Parti Di Giù Vediamo Lo stato Totale Come Si Ammessi Difesa 15 Beh Sempre Ma io Di Leggiamo Che cos'ha A dirci Inoa Anzi no Fermiamo L'episodio Qui Salviamo Ah se Dobbiamo Però Leggere Le dove Voci Che ci sono Apparse Quindi Le richieste Ok Il focacciatore Però poi finiranno Queste voci Però poi Le sbloccheremo Tutte Ok Andiamo a leggere Le note di caccia Poi fermiamo L'episodio Allora Mostri Grandi Grandi Giucci Di Intorno Assere Un gruppo Di tanti Piccoli Giucci Tra alcune Scelte Due Per L'accompagnare Per L'ustrazioni Una volta Avvisata Una Prereda O Avvertito Un Pericolo Impartisce Comandere I compagni In Corri Dei Le loro Movimenti Non Fate Sopra Fraghe Il Nivelo Dalla Tipica Fomoto Da Riusciuto Il Corpo Attraversato Da Un Gas Infiammabile Che La Beste Spelle Come Difesa Quando Si Sente Pericolo Una volta Espulso Il Gas A Per Esplosive Per Questo Il Bombaggi E' Sempre Stato Sfruttare I Ok Qui In Set Tocchi Cosa Fanno Questo Aumenta Temporalmente La Resistenza La Glutti Marika Antidopera Cosa Faceva Lei Invece Lui A Dispetto Della Taglia Un Idole Molto Timida Ok Se Pette D'arco Lui Solitamente Sviluppato Il Perché Ricordo Un Volto Umano Spavendoso Un Po Come Arbor Che Ricopa Di Pokémon Ma Ok Burattirani Invece Cosa Fa Ragno Del Calvestico Pela Macchie Gialle Il Suo Adome Produce Ragno Tele APC Cosa Che Sono Bastanza Roboste Da Bloccare I Mostri Quando Si Nota Scappa Dallamici Usa Ragno Tele Per Immobilizzare L'Ombettivo Soprattutto Quando Si Inoltre Ricordo I Movimenti Di Burattinaio Che Vanno Aves I Burattini Da Qui Il Nome Ok Scarafuoco La Orce Calda Al Tatto E Esposizione Prolungata Per Usare Scottature Capito Poi Quindi Viaggio Rapido Qualcuna Roba Da Diccio Pese Compagni Vabbè Ragazzi Le Guardiamo Le Prosse Episodio Queste Cosa Per Il Momento Serviamo E Fermiamo L'episodio Qui Perché Altrimenti Gli Episodio Su Monster The Ice Durano Troppo